SEMBRANO TRISTI Sembrano tristi, ma stanno solo aspettando quell'attimo. Forse, da molto. Ciao, zia. Prova a vedere sotto al mobile del televisore. Ok, perfetto. Ciao, ci vediamo presto. E lui rispose, nulla permane. Costruiamo forse una casa che duri per sempre. Stipuliamo forse contratti che valgono per ogni tempo a venire. Forse che i fratelli si dividono in eredità per tenerla per sempre. Forse che è duratura la stagione delle piene. Fin dai tempi antichi, nulla permane. Che cosa divide padrone e servo quando entrambi hanno compiuto il proprio destino? Per dov'è? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ti ho una partita Tieni dai Dai non vale Dai non vale Dai non vale Dai non vale Dai non vale